Niente acqua corrente da una settimana, il caldo insopportabile e infine alle 21 il blackout. Condizioni drammatiche al carcere Carmelo Magli di Taranto e tra i detenuti scoppia la rivolta. Nella notte, stanchi dalla situazione è diventata insopportabile, lo stato di agitazione è diventato sempre più acceso. Hanno scagliato fuori dalle anguste finestre delle celle veramente tutto il possibile. Su pellettili, bombolette di gas, oggetti vari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né tra i detenuti né tra i poliziotti penitenziari. Spiega Erasmo Stasolla della FSN CISL, costretti tutti a convivere in una struttura che potrebbe contenere 250 reclusi e dove però oggi se ne contano più del doppio, in una struttura continua dove la tensione rimane palpabile. Non è detto che potrà stemperarsi nelle prossime ore in assenza di novità. Sui guasti alla rete idrica arrivano intanto le rassicurazioni dall'acquedotto pugliese e dagli ingegneri chiamati dalla direzione del carcere. Sono state rinviate poi le celebrazioni previste per la giornata dedicate a San Basilide, patrono della polizia penitenziaria. Sarebbe dovuto arrivare in visita al carcere anche il vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, e per la giornata alcuni detenuti avrebbero dovuto ricevere il sacramento della Cresima. L'auspicio della FSN CISL conclude Stasolla e che il Dipartimento Centrale dell'amministrazione penitenziaria ponga fine alla sofferenza gratuita dei detenuti costretti a vivere nel sovraffollamento, quanto quella dei poliziotti penitenziari costretti anche loro ad assicurare un servizio responsabile puntuale in una situazione non più sostenibile di carenza di organici. Anche Giuseppe Moretti, segretario nazionale dell'UGL Polizia Penitenziaria, commenta quanto accaduto nella notte a Taranto. I detenuti spiega che già da tempo soffrivano di interruzioni nella fornitura dell'acqua, ma di fronte al blackout si sono ribellati appiccando il fuoco ad alcune bombolette di gas usate per scaldare il cibo che hanno gettato nei corridoi delle sezioni e nei cortili. Diversi detenuti agenti si sono sentiti male a causa del fumo. Una situazione drammatica, prosegue Moretti, che poteva essere evitata. Il problema dell'erogazione dell'acqua è noto ed è persistente sia nel carcere di Taranto che in altre strutture, ma non è mai stato fatto nulla di concreto per risolverlo. Quanto accaduto a Taranto conclude è anche il risultato di oltre tre anni di riduzione nell'erogazione dei fondi per la manutenzione delle strutture penitenziarie e della distrazione di enorme somme di denaro per la realizzazione del piano carceri, sulla base del quale in concreto sono stati realizzati solo due dei 13 nuovi penitenziari annunciati ormai tre anni fa. Chiediamo insomma al Ministro della Giustizia, Paola Severino, di passare subito dalla fase di studio a provvedimenti concreti.